La cultura come sovranità, la ricerca come critica sempre d'esta, come strumento per superare lo stato presente delle cose, e poi la tutela, la tutela di ciò che abbiamo di più importante, e il discorso di Calamandrei è un'iniezione potente di futuro, fin dal titolo che è meraviglioso, l'Italia ha ancora qualcosa da dire, l'Italia ha ancora qualcosa da dire agli uomini di tutto il mondo.